Ho seguito per più di dieci anni mio marito in giro per il mondo. Adesso che siamo rientrati in Italia abbiamo ritrovato le nostre belle abitudini. Una sola cosa ci mancava, ma con piacere l'ho trovata. Parlo della linea Ellen Harper. Con Ellen Harper ho cresciuto i miei figli. E ora io e lei non possiamo più farne a meno. E' stato bello ritrovare la qualità Ellen Harper. Ellen Harper, da oggi, anche in Italia. Senza il vino? Che gusto c'è? Gola fresca valda, la nuova caramella balsamica! Gola fresca valda è dura! Nessuno se l'aspettava così dura! E anch'io... Gola fresca valda, dura, anzi, durissima. Neo Formi Troll, il buon antibatterico che disinfetta e protegge la gola. Neo Formi Troll, quando c'è aria di mal di gola. Leggere attentamente le avvertenze. Stanca? Io? Oh, son leggera. E non mi graffio perché son nera. Oh, son stirella bleccal. La macchina per stirare non finisce mai di stupire. No, non mi graffio perché non finisce mai di stupire.